e sono anche la Presidente del Comitato del Centenario della Fondazione Besso. La Fondazione Besso ha una sua Presidente che in genere apre questi nostri seminari ma che oggi è impossibilitata a venire causa lagamento cantina e quindi introduco io questa giornata che si presenta come molto interessante ed è la giornata impernata su questo libro di Meredith Ray Figlie dell'alchimia, donne e cultura scientifica nell'Italia della prima età moderna Meredith Ray è professoressa di italianistica presso l'Università del Delaware e si è sempre occupata di storia delle donne, della cultura femminile la condizione femminile soprattutto in Europa della prima età moderna e anche ovviamente del rapporto tra donne e ricerca scientifica e per parlare di questo libro abbiamo pensato di invitare e ci farà da coordinatrice del pomeriggio una scienziata di oggi non una scienziata di ieri ovviamente, una scienziata di oggi che è la professoressa Livia Ottolenghi che è professoressa ordinaria di odontoiatria e vicepreside della facoltà di medicina e odontoiatria della Sapienza e anche presidente della conferenza dei presidenti di corsi di laurea in odontoiatria italiani io ho pensato di invitare Livia che ha oltre che per le sue competenze e anche interessi che ha in questo settore che è quello della storia delle donne che come sapete è il settore particolare di interesse della fondazione Ernesto Abesso l'ho invitata perché mi piaceva avere insieme a due relatori di cui adesso vi dirò che presentano il libro il libro si svolge nel 5-600 una voce che parlassesi del libro ma che affrontasse più in generale anche con appiglio all'oggi la questione che è tuttora molto viva e importante delle donne nel loro rapporto con la cultura scientifica gli altri due relatori sono Federica Favino che ha avuto una Marie Curie all'università alla Sapienza e adesso è docente di storia della scienza sempre alla Sapienza nel dipartimento di storia, antropologia, religioni, arte e spettacolo che poi è il dipartimento a cui io ho appartenuto e che da poco lei mi dice si sta occupando di donne scienze con molto però interesse e Francesco Lucioli che invece non è uno storico della scienza ma è un letterato insegna a letteratura italiana sempre la Sapienza in un altro dipartimento ma insomma siamo tutti della nido della Sapienza ed è si è occupato soprattutto di letteratura italiana in ambito umanistico rinascimentale e anche del ruolo delle donne e anche di alcuni dei personaggi che qui vengono nominati quindi come vedete abbiamo un parterre di relatori molto specificamente dedicato all'argomento allora a questo punto io ho fatto la presentazione sarò ferre allora c'è l'autrice in siccome non la vedo ve ne sono dimenticata ma anche se non si vede in collegamento c'è l'autrice quindi Meredith Ray è in collegamento e naturalmente alla fine della nostra conversazione le passeremo la parola perché dica è quello che è lei ecco buonasera buonasera e quindi dopo che avrà ascoltato potrà parlare e direi possiamo fare una prova audio? no abbiamo già fatto ok buonasera allora all'autrice buonasera grazie grazie per essere per essere qui e sono contenta di essere qui con voi però avrei preferito essere a Roma con voi non mancherà l'occasione allora allora grazie grazie alla professoressa Caffiero grazie alla fondazione Ernesta Besso è un'occasione per me di uscire un po' dal mio mondo e quindi questo ringrazio Marina per questo ogni tanto lei sa che insomma cerco di farlo anche per non non calarmi troppo nel personaggio insomma uno si deve sempre cercare di di avere altri orizzonti io però all'inizio volevo farvi vedere due due grafici mi può mandare la diapositiva per favore allora volevo farvi vedere due grafici per farvi perché la professoressa Caffiero dice ma come che rapporto hanno le donne e la scienza in questo caso mi permetto di presentare diciamo la condizione femminile in un ambito medico specifico e questa è una prima diapositiva che è presa dai dati dell'Alma Laurea che è una diciamo una banca dati che consente di fare una valutazione sui laureati sulla sulla condizione lavorativa dei laureati e noi questo è il dato sapienza del 2021 vedete che abbiamo quasi mille laureati di cui il 61% quasi 62% sono donne e il 38,4% sono uomini il voto di laurea è mediamente più alto anche se non significativamente perché vedete uno ha 110 l'altro ha 109.9 quindi siamo lì ma la cosa più interessante è l'altra parte della diapositiva cioè la condizione lavorativa e il tasso di occupazione e la ritribuzione e in in blu vedete la condizione il tasso di occupazione degli uomini e in rosso quello delle donne e diciamo che abbiamo una parità nelle generazioni più giovani dal punto di vista del tasso di occupazione mentre per le generazioni un pochino più anziane meno giovani abbiamo già un tasso di occupazione che scusate devo vedere quindi la parte cioè diciamo che prevale la percentuale di laureati nelle donne ma il tasso di occupazione è maggiore degli uomini e se vedete nella parte sotto invece quello è la ritribuzione media e la ritribuzione media siamo nel 2021 ancora è prevalente a parità di occupazione a parità di ruolo per gli uomini cioè noi abbiamo paradossale in realtà forse abbiamo una ritribuzione mediamente più alta per gli uomini rispetto alle donne a parità di ruolo questo ovviamente parliamo di sanità in generale non in sanità pubblica sarà probabilmente determinata nella sanità privata però questa è la situazione registrata da un'istituzione apposita quindi non sono dati così possiamo andare avanti al prossimo e la la prossima diapositiva può andare alla volta ok questa è la situazione in Italia e la situazione in Italia è simile abbiamo il 57% di donne sui 10.460 laureati il 43.4% di uomini con una voto di laurea non significativamente diverso leggermente prevalente quello delle donne ma la ritribuzione media è sempre prevalente quella degli uomini quindi grazie ho finito perché volevo darvi una situazione perché noi parliamo di epoche antiche e invece nell'epilogo c'è una frase che voglio leggere cioè me la voglio rileggere perché dice dice piuttosto i casi trattati servono a fornire un'idea di quanto numerosi e vari fossero i modi in cui allora le donne contribuivano alla cultura scientifica molto resta ancora da fare molto resta ancora da fare anche in una condizione contemporanea quindi penso che la situazione sia interessante però voglio visto che il libro poi dopo avremo modo di apprezzarne la declinazione di diversi capitoli attraverso le relazioni dei miei colleghi di tavolo è declinato attraverso storie di persone vi voglio raccontare due storie di persone la prima è relativa alla Grecia antica non tocco il periodo in ispecie perché così non mi metto in competizione secondo ci fu una donna teniese che si chiama Agnodice che si travestì da uomo per poter assistere le donne malate era il periodo in cui si affermava il corpus ippocraticum la medicina si stava delineando e non mancavano modi alternativi per praticare la medicina questa donna si traveste da uomo per poter assistere le donne malate e nella storia si narra che la sua fama divenne sempre più grande tra le donne e infatti questo attrasse le ire degli altri medici che a tal punto da condurle in tribunale sotto l'accusa di corruzione delle donne in tribunale lei decise di rivelare la propria identità ma questo non fece altro che aumentare i capi di accusa contro di lei e quindi la condannarono a morte e prima di essere però diciamo giustiziata intervennero le matrone aristocratiche che riuscirono a far accordare alla donna il permesso di esercitare la professione Agnodice quindi è ritenuta la madre della medicina così come Eppocrate ne ha il padre quindi questo è il primo racconto di donne che un po' come Yentl che si è travestita c'è la Yentl syndrome si chiama le donne laureate in realtà poi le ritroviamo molto dopo c'è una menzione nel libro di una medichessa trotula della scuola medica saleternitana e poi ci sono le due medichesse siciliane che sono Virdimura di Catania e Bella di Buia che sono due donne ebre siciliane che avevano avuto accordato l'autorizzazione di esercitare la medicina per le donne e per i citi sociali meno abbienti e poi c'è la prima donna laureata in epoca contemporanea che è Elizabeth Blackwell nel 1849 facciamo un salto di secoli ad oggi 12 donne hanno ricevuto il Nobel per la medicina una sola italiana di Talemi Montalcini nel 1986 ma c'è una storia forse che tutti non tutti conoscono che è quella della biochimica Rosalind Franklin Rosalind Franklin era un'esperta di cristallografia raggi X siamo tra il 51 e il 52 e molti scienziati c'era una gara perché molti scienziati stavano lavorando alla struttura del DNA con molte difficoltà perché nessuno aveva capito la struttura che poi si sarebbe rileverata la doppia elica e che poi ha dato una serie di oggi oggi diciamo le terapie geniche sono una un'enorme diciamo prerogativa a disposizione dei medici per la personalizzazione per la medicina personalizzata però allora c'erano tra questi che studiavano James Watson e Francis Crick che sono i Watson e Crick famosi che poi che non avevano ancora avuto risultati conclusivi Watson chiese alla Franklin di vedere le immagini al DNA lei non aveva non gli ha dato il permesso e quindi Watson si è rivolta a Wilkins che era il supervisore della Franklin il capo della Franklin che invece dette a Watson la famosa fotografia numero 51 che è il capolavoro di cristallografia a raggi X in cui la Franklin aveva individuato appunto la struttura a doppia elica da cui Watson e Crick servendosi di questi lavori non ancora pubblicati da lei e da Wilkins hanno potuto deturre la struttura a doppia elica hanno pubblicato su Nature nel 53 e poi hanno condiviso con Wilkins il premio Nobel per la medicina in fisiologia nel 62 Rosalind Franklin morì a 37 anni di carcinoma avarico nel 58 e non fu neanche citata nei lavori e questo è un altro elemento probabilmente che getta diciamo anche un'ombra e anche ci dà ulteriore sostanza a quel molto c'è ancora da fare perché in realtà questo è oggi è ancora meno avete visto sui dati c'è una certa diciamo si sta andando verso un appianamento delle situazioni però sicuramente nel mondo della medicina parlo del mondo della medicina ma anche nel mondo della scienza di base sicuramente questo ha creato questa differenza di genere anche gli aspetti della situazione delle donne ha sicuramente creato molte problematiche senza però levare il valore della ricerca delle donne cioè il valore delle donne nella ricerca che invece è sempre stato molto molto importante quindi su questo sono molto molto interessata oggi ad ascoltare quanto verrà detto su questo volume delle figlie dell'alchimia forse in fondo siamo tutti figli dell'alchimia perché in realtà l'alchimia era una cosa legata alla pietra filosofale però si è creata poi dopo tutta una serie di valutazioni sull'alchimia per ciò che riguarda la sintesi dei farmaci per cui su questo forse siamo tutti figli almeno noi che agiamo nella scienza siamo tutti figli dell'alchimia ho parlato fin troppo e quindi vi racconto come andrà il nostro pomeriggio abbiamo quattro capitoli i colleghi qui al mio tavolo parleranno per le proprie competenze Federica Favino parlerà del primo e del quarto capitolo lei è una storica della scienza e quindi ci parlerà di questo specifico argomento per ciò che riguarda le figure che vengono credo descritte mentre Francesco Cioli ci parlerà dell'aspetto letterario di quello che è anche presentato come aspetto letterario per i due capitoli centrali del secondo e del terzo capitolo se volete io 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 vi do un po' di i tempi penso che quanto ci abbiamo dobbiamo finire alle sette 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 e un quarto ci abbiamo però la merita ci abbiamo l'autrice che che insomma avevamo detto che avremmo colloquiato con l'autrice infatti poi alla fine avremo una proprio un quesito nei confronti dell'autrice quindi darei la parola a Federica Favino io direi che non so adesso è un quarto di ora e ti do io i cinque minuti quando io sono e vi do i cinque minuti prima di concludere benissimo allora grazie mille grazie di essere venuti grazie di avermi invitato a Marina Caffiero all'organizzazione appunto della fondazione e grazie a Livia per questa per questa introduzione dunque come si diceva io appunto sono una strega della scienza e quindi ho provato a leggere scusate e quindi ho provato a leggere appunto questo testo dal mio punto di vista allora innanzitutto ho pensato che nel momento in cui mi sono messa a leggere questo libro mi sono trovata molto a mio agio mi sono domandata perché mi trovassi così a mio agio e mi sono risposta da un certo punto di vista in primo luogo perché questo è un bel libro è un bell'oggetto materiale per così dire cioè ha una bellissima carta ha un'ottima traduzione secondo me opera appunto di Rolf Peignill e Stefano Baldassarri quindi insomma penso insomma il risultato mi sembra davvero ottimo ma soprattutto poi ho capito che quello che mi dava questo senso di confort era il fatto che per la prima volta leggevo nella mia lingua madre in italiano quelle che normalmente sono le parole chiave della stereografia angosassone di storia della scienza che sono quelle nelle quali diciamo lavoro e mi riconosco di più diciamo io ho una formazione un po' internazionale a questo punto che appunto ritrovavo in tutta nell'introduzione già del libro e poi nel suo sviluppo quelli che sono i temi appunto di quella che potremmo dire la nuova storia della scienza considerate che ancora in Italia un po' la tendenza è quella di fare una storia degli eroi della scienza da una parte quindi Galileo e tutti i suoi seguaci ma anche una storia che ha a che fare soprattutto con le idee cioè con il farsi del pensiero scientifico quindi trovarmi invece immersa fin dall'introduzione in un libro che che presenta programmaticamente l'idea che la storia della scienza non è una storia che si deve occupare necessariamente di scienza ma di cultura scientifica cioè quello che l'autrice definisce prodotto di una pluralità di idee che si andavano evolvendo intrecciandole le une alle altre una scienza che potremmo definire piuttosto conoscenza con un termine che attualmente va molto di moda nei nostri studi e che una tradizione invece che si rifà piuttosto alla rivoluzione scientifica considererebbe pseudoscienze come per esempio l'alchimia l'astrologia la farmacopea ma in questo ma insomma in un congeri è più ampia una scienza nella quale della quale fa parte anche la filosofia naturale ma anche la teologia e scrive la meredith rei anche la poesia quindi da una parte abbiamo una storia che non si concentra appunto sul farsi delle teorie ma invece su una cultura scientifica in senso dove la scienza ha un'accezione larga l'accezione che aveva all'epoca nella quale ci troviamo quindi laddove la scienza dura per così dire una scienza matematico geometrica a base appunto che ha come base il calcolo ancora non si era perfettamente affermata quindi una scienza in senso ampio ma anche una scienza nella quale come dicevo i protagonisti non sono gli eroi ma sono soggetti diversi scriverei dal punto di vista sociale e culturale meno evidenti di Galileo sto citando nei resoconti storici ma non per questo meno importante per i processi che portarono una trasformazione di tipo culturale ed epistemologico quindi da questo punto di vista cioè l'ottica dei minori se non minimi diciamo le donne sono un esempio perfetto le donne alcune donne a cui il volume è dedicato sono appunto dedicato con l'intento di far luce appunto su di loro sul modo in cui esse parteciparono all'attività scientifica nel maturo e tardo rinoscimento e come questa loro partecipazione si è riverberata nella letteratura ora su questo aspetto come dicevo lascio senz'altro la parola a Francesco quello anche che mi preme sottolineare è il fatto che ancora una volta trattandosi di una dal momento che come è stato appena riferito le donne non avevano accesso ad una formazione superiore ufficiale nel senso che in Italia per esempio sono ammesse a frequentare l'università nel 1874 è dal 1877 la prima donna laureata appunto in medicina le scienze praticate dalle donne sono scienze prettamente empiriche cioè è difficile che si occupino appunto di matematiche oppure di diciamo di scienze per le quali era necessaria una formazione universitaria quindi in questo caso le troviamo appunto impegnate in scienze in discipline empiriche come per esempio la pratica alchemica appunto una pratica alchemica i cui confini davvero si stemperano e si mischiano diciamo da una parte quasi confinano con le pratiche culinarie da un certo punto di vista che si mescolano all'elaborazione di remedi cosmetici come è effigiato nella bella immagine di copertina che è proprio il simbolo del modo in cui nell'alchimia spiccava l'immaginario femminile questa alchimia che si accompagna alla produzione dei medicinali all'elaborazione di ricette per trasformare i metalli vili in oro o l'elisir di giovinezza tutto questo per esempio nel caso di Caterina Sforza che è la reggente di Forlì e Imola in Romagna che è anche la protagonista del primo dei capitoli del libro d'altra parte invece troviamo per esempio Camilla Erculiani a Padova la proprietaria in realtà di questa spezieria tre stelle che lei eredita figlia di speziale eredita dal suo primo marito e trasferisce in data al secondo quindi lei fa la speziale per tutta la vita ma grazie a questa sua competenza è anche in grado di lavorare semplice e di produrre dei rimedi farmacologici appunto dei farmaci e d'altra parte troviamo ancora una pratica scientifica che nel caso invece di Margherita Sarocchi che è invece la protagonista dell'ultimo dei capitoli è invece una pratica scientifica e empirica in quanto osservativa nel senso che qui Margherita Sarocchi è contemplata in quanto grazie alle sue strette relazioni epistolari principalmente epistolari con Galileo Galilei quindi vedete è una scienza varia una scienza che ancora non ha i tratti ben definiti che emergeranno dalla rivoluzione scientifica ma che è una cultura molto come possiamo dire che si fonde moltissimo anche con le pratiche quotidiane perché un altro elemento di grande interesse in questo libro è il fatto che non per caso tutte queste attività vengano svolte all'interno di luoghi informali cioè non ci muoviamo all'interno dei laboratori o delle università ma piuttosto all'interno di luoghi informali appunto come le spezzerie o addirittura le mura domestiche ma c'è un punto sul quale mi sono trovata molto sintonica diciamo con quello che l'autrice esprime nell'introduzione laddove lei dice in questo citando a sua volta Carol Puff che è autrice di uno studio sulla Repubblica delle Lettere nel XVI secolo come cito appunto l'aver relegato le donne ai margini della nostra visione di quelle reti di relazioni intellettuali quelle appunto della Repubblica delle Lettere dipende da come noi stessi immaginiamo quei margini non sono le donne a mancare in questo campo visivo ma è la lente da noi usata e va corretta per poterla notare nel caso specifico l'autrice propone di allargare la visuale in modo da includervi l'attività scientifica svolta direttamente dalle donne la riflessione su questo fenomeno e le sue forme di rappresentazione nel discorso letterario ma secondo me è un punto nodale diciamo che io stessa nelle mie ricerche ho sperimentato cioè il fatto che in realtà archivi e biblioteche sono pieni di scritture di donne che però nessuno cerca nessuno cerca perché presume di non trovarli nel senso siamo perfettamente integrati in questa logica per cui assumiamo che le donne fossero ai margini di questa repubblica mentre è una prospettiva che ci ha impedito di vedere quanto fossero presenti e gli esempi casi che vengono descritti in dettaglio in questo libro ne sono un esempio lampante per esempio gli esperimenti di Caterina Sforza che sono una raccolta di rimedi che riguardano tutte le materie di cui dicevo quindi dalla preparazione dei segreti di bellezza alla preparazione dell'elisir di lunga vita alla preparazione alla manipolazione dei metalli diciamo per trasformarli in oro o comunque in similoro questo manoscritto che lei considerava preziosissimo tanto che costituisce la gran parte della eredità a suo figlio che null'altro riesce non Giovanni dalle bande nere appunto questo manoscritto di ricette e esperimenti resta manoscritto appunto e resta solamente in famiglia e viene studiato dall'autrice qui per la prima volta perché è incredibile considerando la mole di rimedi e considerando anche il fatto che si tratta in qualche modo forse l'importanza di Caterina Sforza che è stata appunto una sovrana che è nota per aver tenuto testa all'assedio di Cesare Borgia e d'altra parte appunto questi esperimenti sono un esempio uno degli esempi più classici e più diciamo più ricchi di questo libro dei libri di segreti che sono un genere tipico dell'epoca appunto libri di segreti che raccolgono ricette come dicevo dalle ricette di bellezza come schiarezza i capelli ma anche come avere per le donne un seno piccolo ma anche ricette farmaceutiche e così via ebbene questi esperimenti sono appunto un classico esempio di questi libri di segreti che presuppongono però anche un pubblico femminile perché sono dedicati quasi completamente a loro oh Gesù allora le lettere d'altra parte la stessa cosa per quanto riguarda le lettere di filosofia di Camilla Erculiani che invece appunto della speziale che nel no si per non spezzare il discorso diciamo ok dicevo quindi un altro esempio di scrittura femminile sono queste lettere di filosofia naturale che sono pubblicate nel 1584 a Cracovia da Camilla Erculiani che è diciamo forse uno dei ancora un esempio di quella di quei testi della Querelle des Femmes di cui immagino ci parlerà più tardi Francesco e che e che appunto è un manifesto no che secondo l'autrice anche è una evidenza per così dire dell'ingresso a questo punto delle donne nella sfera pubblica cioè delle donne scienziate nella sfera pubblica non più perché sono donne che si affacciano al mondo della stampa non come era stato nel caso della sforza il cui testo resta manoscritto ma d'altra parte la cosa che mi ha più interessato al di là del discorso esplicito è il fatto che l'approccio che l'autrice ha adottato in questo volume cioè quello di raccontare le presenze delle donne attraverso la rappresentazione letteraria mi sembra che faccia uscire un po' il discorso della scienza di genere un po' dalle strette di una storiografia che tende un po' a concentrarsi sempre sulle donne eccezionali noi abbiamo praticamente una ritrattistica di pochissime donne che nel corso della storia sono passate agli onori della cronica ma accanto a loro ce ne sono tantissime tantissime che questo lavoro dell'autrice sui paratesti le dediche le appendici permette di restituire in maniera vivida io direi le donne che popolano questo libro sono tante non sono solamente coloro sulle quali si concentra il discorso dei capitoli ma sono donne che compaiono e scompaiono in qualche modo tra le dedicatari dei libri ma anche le persone che vengono menzionate al loro interno eccetera una cosa per esempio che mi ha molto colpito è il fatto che è possibile quasi incrociando in qualche modo queste dediche o questi paratesti è possibile quasi individuare una sorta di rete nascosta di una rete relazionale tra le donne che richiamano si richiamano una con l'altra in maniera indiretta che mi ha ricordato molto un concetto il concetto di sorellanza che ha usato secondo me in maniera molto efficace Tatiana Crivelli parlando delle donne arcadi cioè l'idea che di fatto esistono dei modi retorici per le donne di evocare una l'altra in modo da ricreare quella rete che è una rete privata una rete che soggiace alla sfera pubblica dalla quale sono espulse in qualche modo ed è infatti per esempio in alcuni casi è l'oggetto stesso che è l'alchimia stessa è l'oggetto alchemico che crea il nodo è il caso per esempio delle relazioni di Caterina Sforza una volta trasferitasi definitivamente a Firenze con le monache speciali del convento delle murate ma è anche il rapporto indiretto per esempio che la Sforza crea con altre donne per uno scambio di ricette di bellezza come ricorda appunto l'autrice per esempio tra lei e una donna di casa Gonzaga senza dimenticare il fatto che qui come spesse volte è ripetuto la bellezza è comunque anche un simbolo di potere quindi è importante anche diciamo le ricette hanno anche questa funzione di self-fashioning insomma di creare un'immagine di sé come un'immagine di successo in altri casi invece sono i libri che creano queste reti di relazioni per esempio mi ha colpito molto questa dedica che è premessa ai discorsi neoplatonici sopra le meteore di Aristotele di Niccolò Vito di Gozze che lascia scrivere la dedica a sua moglie Maria Gondola la quale la indirizza a Fiore Zuzzori o Zuzzori non so croata come lei un'intellettuale come lei era Gusea il cui intelletto le sue capacità erano assolutamente riconosciute dalla comunità maschile e questa dedica si rivolge a Fiore Zuzzori proprio come scudo per chiederle di fare scudo a lei contro i possibili detrattori dell'opera del marito ma d'altra parte è una richiesta che fa in qualche modo il paio e fa eco con le lettere pubblicate da Camilla nello stesso anno della dedica della gondola cioè nel 1584 lettere che vengono dedicate da Camilla ad Anna Iagellona che è figlia della milanese Bona Sforza e in quanto moglie di Stefano Batoi è sovrana dello stato polacco lituano che ospita una corte riccamente popolata di italiani tra i quali è diffusa una letteratura che come possiamo dire che esorta all'incremento dell'educazione femminile quindi mi sembra significativo che una donna dedichi un test ad una donna pur consapevole della debolezza pubblica ma quasi evocando creando un effetto di moltiplicatore di forza richiamando una l'altra d'altra parte per stare sul terreno più classico per così dire della diffusione delle teorie scientifiche Camilla Erculiani che devo confessare è la mia preferita in tutto questo panorama è una figura di grande interesse anche per le idee naturalistiche che esprime nelle lettere in cui la forma di lettera viene appunto assunta per lasciare che la trattazione resti aperta dialogica e quindi meno stentoria anche quando propone dei temi che sono temi potenzialmente sott'occhio alla censura perché come ben si spiega nel testo a parte la lettera in cui si tratta della natura dell'arcobaleno che però qui nel libro non è spiegata e quindi io chiederei all'autrice poi di chiarirci d'altra parte però queste le opere di Camilla si vertono su temi scottanti per la relazione scienza-fede in tempi di contro-riforma infatti in una delle lettere la caducità della vita umana il fatto che la vita umana non sia eterna era argomentata non come risultato del peccato originale come voleva la dottrina cattolica ma bensì come prodotto semplice prodotto di meri processi biologici ma ancora più interessante è la spiegazione che l'Ercoliani dà del diluvio che è del diluvio biblico che è spiegato non come appunto un atto della punizione divina per il peccato dell'uomo ma piuttosto come uno squilibrio tra gli elementi costitutivi del mondo cioè aria acqua terra fuoco che è generato dal fatto che l'elemento terra si sarebbe esaurito a causa della superpopolazione che la terra ha ospitato a cominciare dalla creazione è interessante il fatto che come appunto qui viene sottolineato questa spiegazione del diluvio copia in qualche modo ad verbum paracelso paracelso che è l'iniziatore della medicina chimica una medicina chimica che pur essendo presente in maniera così non organizzata in Italia già nel Cinquecento però di fatto vede l'affermarsi all'interno del corpo medico solamente della categoria dei medici solamente in pieno Seicento e tra l'altro soprattutto attraverso la mediazione di un testo di un testo come possiamo dire mediatore tra il paracelzismo protestante e la teoria galenica invece e cattolica che è Andrea Libavio quindi è molto interessante il fatto che questa donna sia nel pieno di questo dibattito che riguarda tutte le figure della cura che non sono compresi i medici di professione D'altra parte non è un caso che non poteva forse che essere così che l'inquisizione in effetti prende in esame le teorie della Ercoliani con argomenti che noi conosciamo solamente attraverso la pubblicazione della ringa del difensore che si chiama Giacomo Menocchio che però paradossalmente per scagionarla è costretto ad agitare davanti ai giudici il trito argomento della inferiorità intellettuale della donna che pertanto non potrà che proporre un'eresia sicuramente meno pericolosa di quanto non avrebbe fatto un uomo ovviamente c'è qualcun altro che avrebbe avuto ben altri guai per queste questioni e lì a poco sarebbe stato Galileo ovviamente ma Galileo entra prepotentemente in questo racconto proprio perché amico di Margherita Sarocchi Margherita Sarocchi Birago che è invece una donna ormai pienamente integrata nella sfera pubblica nella sociabilità colta come si direbbe romana nel momento in cui Galileo nel 1611 viene a Roma per far conoscere per ottenere l'approvazione della chiesa sulle sue osservazioni telescopiche su quelle che aveva appena pubblicato nel Siderius Nuncius nel 1610 e ebbene quella è l'occasione nella quale Galileo entra direttamente in contatto con Margherita Sarocchi che è nota per essere autrice di un poema epico la Scanderbeide che trattava dell'epopea antiturca dell'eroe urbanese per eccellenza epopea che si era recentemente conclusa che ha una struttura di chiara marca nella quale è evidente l'ammirazione dell'autrice per Tasso ebbene è interessante il fatto che lo scambio tra Galileo e lei avvenga nei termini sia un vero e proprio scambio nel quale la Sarocchi vuole che Galileo Fiorentino in qualche modo sciacqui i suoi panni in Arno cioè che faccia una rilettura una ripulitura alla luce della sua lingua della lingua della Scanderbeide cosa bizzarra considerando che Galileo era tutt'altro che un ammiratore di Tasso ma più Tasso un seguace di Ariosto dall'altra parte si stressa molto nel libro questo fatto che Galileo in realtà invece quello che voleva dalla Sarocchi e dal suo più vicino amico insomma la persona con la quale lei ebbe una relazione sicuramente intellettuale più intensa che è il matematico Luca Valerio membro un matematico importante stimato da Galileo e membro dell'Accademia dei Lincei ebbene la Sarocchi sembra che in questo gioco di ruoli faccia proprio questo ruolo lei e Valerio sostengono Galileo dai detrattori soprattutto contro coloro che non credevano nella verità delle osservazioni telescopiche non credevano quindi che soprattutto i satelliti i pianeti Medici e i satelliti di Giove fossero veri fossero reali e in più occasioni viene appunto la Sarocchi e Valerio prendono il prendono parola insomma si esprimono pubblicamente affinché questo a favore appunto per avvalorare le scoperte di Galileo ove mai ce ne fosse stato bisogno questo durante una campagna di denigrazione che si sviluppa soprattutto nell'Università di Perugia ebbene è una relazione però che dura poco perché due si incontrano nell'undici abbiamo solamente poche lettere che attestano di questa relazione a distanza perché poi ovviamente Galileo torna a Firenze lei sicuramente è una delle pochissime donne alle quali Galileo fa pervenire sue opere cioè lei diciamo le viene destinata a una copia del trattato sui galleggianti ed è coinvolta nella gestazione nella pubblicazione del testo sulle macchie solari che sono infatti pubblicate qui a Roma a spese dei lincei ma è appunto è una relazione che si interrompe in maniera improvvisa e non si sa non si sa in quali circostanze non si sa perché se intenzionalmente la Sarocchi interrompe le relazioni perché Galileo di fatto non aveva poi tenuto fede alla sua parte dell'accordo cioè non aveva mai letto questa Scanderbeide o perché forse e io propendo per questa seconda opinione in effetti questo è un è un carteggio truncato un carteggio di cui non si conosce la fine insomma mi sembra più sensato anche perché forse se posso ecco dire qualcosa qui qualcosa che ho un po' notato da specialista di Galileo di studi galileiani è il fatto che quello che ovviamente lavorando come fa l'autrice sui testi letterali cioè sui testi scritti sui testi a stampa e non sulle fonti d'archivio non sui carteggi non su fonti che possono essere incrociate con queste si tende un po' forse si rischia in alcuni casi di prendere alla lettera di prendere per buone quelle che poi sono delle testimonianze in cui ovviamente l'intenzione dell'autore è sempre da verificare rispetto a questo perché è evidente che Galileo aveva in quel momento protezioni rispetto alle posizioni che riguardavano la curia che certo avevano una forza una intensità forse ben superiore a quella che la Sarocchi avrebbe dovuto garantirle comunque per chiudere e chiudo appunto con la stessa autrice che nell'epilogo ricorda come di fatto queste storie sono solamente alcune delle storie che la storia ha restituito lei ricorda per esempio interessante questo scambio pistolare tra l'arcangela Tarabotti nota come matrice della monacazione forzata e Ismael Bouilloux che è un astronomo francese quindi è veramente un po' strano questo fatto che ci sia un intenso carteggio tra i due e poi ricorda ancora una volta quelle che sono un po' veramente come possiamo dire il prototipo della donna scienziata nel Settecento cioè Laura Bassi e Maria Gaetane Agnesi le donne cioè che ebbero addirittura per volontà del Papa Benedetto XIV la possibilità non solo di laurearsi ma di insegnare benché su una cattedra soprannumeraria all'Università di Bologna uno dei meriti di questo libro è il fatto di aver allacciato cioè di aver finalmente ricompreso il discorso sulle donne nella scienza nel panorama europeo perché di fatto esistono già molti studi esistevano quando l'autrice scriveva già diversi studi che riguardavano altre realtà europee per esempio la Francia per esempio l'Inghilterra per esempio soprattutto le corti tedesche eccetera ebbene sicuramente da questo punto di vista questo volume apre la strada proprio a completare questo puzzle e per chiudere chiederei una curiosità che mi veniva chiederei all'autrice alla luce di questa sua esperienza se trova che il modello di donna scienziata di donna coinvolta nella comunità scientifica tra maturo e tardo rinascimento che lei ha delineato in questo libro abbia secondo lei delle caratteristiche specifiche rispetto invece alle figure femminili che questa letteratura che lei ben conosce che abbondantemente cita nelle note ha tratteggiato e grazie mille dell'attenzione grazie grazie Federica io bello il concetto di cultura scientifica perché è molto attuale e anche il fatto di parlare di figure della cura che figura della cura in realtà va oltre il ruolo specifico del medico oggi proprio all'organizzazione mondiale della sanità parlano di approccio interprofessionale alla cura quindi è una cosa molto moderna molto contemporanea anche forse anche molto futurista diciamo così allora adesso do la parola a Francesco per parlarci del secondo e del terzo capitolo allora grazie grazie allora come abbiamo sentito raccontare questo libro è un libro di storia della scienza del ruolo delle donne che le donne giocano nella storia della scienza ma è anche moltissimo un libro dedicato alla storia della letteratura al ruolo che le donne come letterate giocano nel ragionare nell'introdurre elementi di storia della scienza dell'alchimia dell'osservazione diretta all'interno di testi letterari e il punto di partenza abbiamo sentito appunto che il primo capitolo è dedicato a Caterina Sforza che raccoglieva queste ricette queste informazioni questi esperimenti nel suo manoscritto di esperimenti ma appunto dalla introduzione della stampa in poi la raccolta di consigli di ricette di segreti come venivano appunto chiamati acquista nuova dignità attraverso il mezzo della stampa e la produzione editoriale di testi dedicati ai segreti è vastissima nella cultura cinque-secentesca segreti che sono letti sia da uomini sia da donne e questo è già un elemento di innovazione testi dedicati a donne in cui si rivelano dei segreti ora perché le donne potevano essere trovare interesse in questa produzione editoriale anzitutto per la lingua sono testi involgare dunque più facilmente accessibili a un pubblico femminile poi perché le donne erano già abituate a leggere consigli suggerimenti a avere delle informazioni pratiche da poi trasformare nella pratica quotidiana pensiamo alle ricette di cucina pensiamo ai manuali di cucina pensiamo a tutte le informazioni riguardanti la bellezza la cosmesi ma anche malattie o temi connessi all'igiene personale e alla salute proprie delle donne temi come la gravidanza l'adattamento le mestruazioni le donne erano abituate a leggere di questi argomenti in testi dedicati appositamente a loro a un pubblico femminile pensiamo alla manualistica e alla produzione di dialoghi dedicati alla condotta femminile non parlo tanto dei testi dedicati alla superiorità o inferiorità delle donne a seconda delle prospettive messe in campo nella cosiddetta creale de femme quanto piuttosto a quella manualistica dedicata appunto alla formazione all'educazione quella produzione editoriale che si muoveva tra prescrizione e descrizione descrizione delle attività proprie dell'universo muliebre e prescrizione di attività più adatte appunto al loro universo ora questo tipo di produzione di segreti di libri di segreti trova appunto nel pubblico femminile un pubblico già pronto a leggere questi testi già interessato a trovare appunto informazioni e consigli e rimedi relativamente a questi temi i libri di segreti diventano dunque una produzione editoriale utile e allo stesso tempo gradevole adatta appunto anche al pubblico femminile non solo al pubblico femminile è una produzione che viene messa in circolazione da autori con competenze diverse abbiamo medici abbiamo letterati abbiamo cerretani cantimbanco coloro che smerciavano consigli rimedi anche rimedi pratici vendevano fiale lozioni saponi e allo stesso tempo ne decantavano le virtù le qualità insomma è un concetto di alla vanna marchi del cinquecento sostanzialmente vanna marchi non si è inventata niente lo scioglipancia già esisteva sostanzialmente cinque secoli fa attraverso appunto questi cantimbanchi e ceretani che vendevano le straordinarie lozioni di cui decantavano appunto le qualità e che poi mettevano per iscritto in libri di segreti che vendevano gli stessi ceretani sul ruolo del ceretano si può adesso rinviare anche un recentissimo volume uscito all'inizio di quest'anno di Matteo Leta in francese che è pronto dedicato alla figura del ceretano tra gli autori tra gli autori di questi testi ci sono come dicevo anche letterati di professione o collaboratori editoriali delle principali tipografie veneziane del tempo penso al caso di Girolamo Ruscelli commentatore editore del furioso poeta e letterato improprio che appunto mette in circolazione anche alcuni di questi libri di segreti di solito anonimamente o sotto pseudonimi ad esempio al nome di Girolamo Ruscelli sono collegate i segreti di donno Alessio Piemontese altro bestseller del tempo ma il nome di Girolamo Ruscelli è stato evocato anche per un altro vero e proprio bestseller su cui si sofferma appunto Mere di Trey con attenzione in questo volume ossia i segreti della signora Isabella Cortese prima edizione 1561 a Venezia sette edizioni per tutto il cinquecento e poi riprese successive traduzioni e via dicendo ora qual è l'elemento di interesse di questo libro beh anzitutto il fatto che non solo il pubblico a cui è indirizzato possa essere il pubblico delle donne ma il fatto che l'autrice sia una donna cioè che la persona al nome della quale esce questo libro sia una donna Isabella Cortese di cui non sappiamo niente ed è un nome curioso anche perché Cortese è l'anagramma di secreto e dunque la possibilità che appunto dietro Isabella ci sia Girolamo Ruscelli o magari un altro autore di libri di segreti come Timoteo Rossello autore di una summa dei segreti universali uscita sempre nel 1561 beh questo è molto probabile e allora una domanda da porsi potrebbe essere ma allora perché pubblicare un libro a nome di una donna e qui risulta di una qualche utilità risulta di una qualche utilità gli studi anche molto recenti sulla novellistica inglese che hanno dimostrato che molto spesso sul mercato editoriale si vendevano libri di novelle scritti da donne perché gli uomini erano più incuriositi se il libro usciva a nome di una donna cioè l'uomo il lettore trovava che una donna che raccontasse delle novelle potesse essere più come dire stuzzicante potesse offrire un elemento di interesse ulteriore rispetto appunto alla novella alla semplice novella pubblicata a nome di un uomo ecco allora mettere a nome di Isabella di una Isabella Cortese un libro di segreti un libro che vuole rivelare dei segreti ecco se questi segreti vengono rivelati da una donna la cosa è ancora più interessante per il pubblico dei lettori e delle lettrici ora che cosa è il libro dei segreti della signora Isabella Cortese è una raccolta di consigli pratici una raccolta appunto di ricette una raccolta di una silloge di consigli pratici che riguardano aspetti diversi della vita concreta di uomini e donne e che sono basati sull'esperienza quotidiana sulla pratica sulla prassi insomma l'elemento di interesse e su questo Meredith insiste giustamente è il fatto che questa produzione non è una riflessione teorica non si parla di teoria della scienza si parla di pratica della scienza di prassi della scienza una scienza concreta così come d'altronde era concreta l'etica in questi anni di cui stiamo parlando un'etica della prassi un'etica che si faceva nell'azione quotidiana nelle relazioni sociali negli scambi con gli altri ecco la stessa scienza è una scienza della prassi una alchimia della prassi un fare pratico quotidiano che si svolgeva in particolare nel caso delle donne all'interno delle mura domestiche le donne erano più abituate a leggere queste ricette questi consigli ma erano anche più abituate a metterli in pratica nel fare quotidiano che cosa raccontano i segreti di Isabella Cortese raccontano oltre 400 ricette che toccano come dicevo ambiti diversi della vita quotidiana l'opera è divisa in quattro libri il primo con 30 ricette è dedicato a consigli di medicina pratica spicciola dedicato a piccoli medi grandi malattie o malesseri dal mal di testa consigli per farsi passare il mal di testa ai dolori mestruali a tagli e danni della vita quotidiana il secondo libro è invece dedicato a elementi più propriamente alchemici si parla anche di come trasformare i metalli e quindi cogliamo appunto quell'elemento di alchimia che poi alla base del percorso che ha portato Meredith Ray a ragionare su questo volume molto interessante poi è il terzo libro che raccoglie quelli che possiamo considerare dei consigli legati al tema della maraviglia un tema propriamente barocco se vogliamo ma che è già introdotto a questa altezza cronologica perché si danno consigli per fare cose che possano destare meraviglia ad esempio l'inchiostro simpatico come scrivere senza farsi leggere senza farsi decifrare oppure come tingere il cuoio o come creare delle lettere dorate per decolare i quaderni o i libri le copertine dei libri su cui si scrive insomma cose pratiche che però servono anche appunto a generare stupore da parte del pubblico o della famiglia e poi c'è il quarto libro che è il più lungo se i primi tre constano di 30 70 e 99 ricette il quarto ne hanno vera 221 221 ricette che sono dedicate alla cosmesi e alla bellezza però attenzione non solo femminile anche maschile quindi curare la calvizie ad esempio oltre appunto a tingere i capelli colorare le labbra insomma una produzione molto vasta che appunto tocca tanto l'ambito maschile quanto l'ambito femminile ora questi consigli sono appunto come dicevo molto diffusi il libro di Isabella Cortese ha sette edizioni ne vengono prodotti moltissimi altri nel corso del 500 l'elemento su cui Mere di Trei attira l'attenzione però non è soltanto il successo di questi testi il pubblico a cui è rivolto i lettori le lettrici e ciò che potevano ricavare dalla lettura di questi testi ma anche il modo in cui questi testi vengono recepiti all'interno di altri generi letterari appunto dicevo un testo che è storia della scienza ma allo stesso tempo storia della letteratura perché si ragiona sul modo in cui consigli avvisi segreti vengano inclusi appunto in altri testi letterari in altre forme letterarie ad esempio viene chiamato in causa il dialogo della bella creanza delle donne di Alessandro Piccolomini un dialogo appunto del 1539 quindi precedente all'opera di Isabella Cortese del 61 ma un dialogo in cui si parla di donne in cui un uomo parla di donne e un altro testo che viene evocato sono le lettere di molte valorose donne una raccolta epistolare altro genere letterario pubblicato nel 1548 quindi sempre prima dei segreti di Isabella Cortese lettere di donne ma che sono scritte da un uomo Ortenzio Lando e quindi abbiamo opere di uomini che trattano di donne educazione di donne descrizione di donne o addirittura falsi testi femminili all'interno dei quali altri generi letterari all'interno dei quali vengono inseriti i segreti vengono inseriti ricette per colorarsi i capelli ricette per truccarsi ricette e consigli per guarire dalle malattie ma con quale tipo di prospettiva con una prospettiva che è anche una prospettiva ironico-satirica cioè si parla si introducono questi segreti anche per fare ironia sulle donne che sono abituate a leggere questo tipo di produzione che perdono tempo a leggere questo tipo di produzione invece ad esempio di leggere la Bibbia secondo una tradizione di lunghissima durata che voleva appunto la donna doversi interessare soltanto alle prediche dei sacerdoti o appunto a letture sacre e lasciare completamente da parte Petrarca Ariosto Boccaccio e appunto anche i libri di segreti e naturalmente una prospettiva di critica a un universo femminile che si stava trasformando un mondo in evoluzione in cui le donne iniziavano ad acquisire un nuovo ruolo un nuovo spazio una nuova voce la possibilità di leggere oltretutto appunto una nuova educazione con l'accesso alla lettura e la possibilità anche di interessarsi a nuovi contenuti a nuovi argomenti e allora è interessante nel ragionamento sul modo in cui i libri di segreti possano essere usati in altri generi letterari vorrei aggiungere due esempi che non troviamo nel libro di Mary Trey anche perché appunto non sono esplicitamente legati all'universo femminile anche se poi in realtà come vedremo rapidissimamente lo sono un esempio è la declinazione di questi libri di segreti nel teatro comico moltissime commedie soprattutto di area veneziana penso a Luigi Groto autore importante anche per ciò che dirò in relazione al terzo capitolo del volume parlano di donne parlano di donne che perdono tempo a colorarsi i capelli a non andare a letto tenendo la testa alta per evitare che le acconciature si schiaccino a decorarsi a bellirsi appunto attraverso segreti e lo utilizza ancora una volta in chiave ironico satirica per criticare la corruzione della società veneziana del tempo rispetto appunto alla donna chiusa in casa a badare i figli educare i figli che era appunto la visione precedente altro genere in cui si evolvono o che affianca la produzione di libri di segreti sono i manualetti di giochi di mano vi ho riportato il frontespizio di uno di questi libretti prodotti da cerretani appunto i cerretani a cui facevo riferimento prima che smerciavano questi libretti di poche carte che cos'è un'opera nuova nella quale si parla di bellissimi giochi di mano sostanzialmente è un piccolo manuale di giochi di prestigio in cui si fanno esercizi giochi con i fazzoletti con i cerchi con le corde come faremmo noi oggi eppure ci sono anche degli esperimenti che hanno molto a che fare col mondo dell'alchimia ve ne leggo solo uno un esperimento per fare acqua chiara come un cristallo ma lavandoti le mani e il viso venirai negro come un carbone e durerà così 8 di e lavandoti poi con aceto forte andrà via ed è provato ecco qual è il segreto per appunto creare quest'acqua che invece di pulire rende sporchi piglia delle scorze delle scorze di noce fresche e falle lambiccare e con quell'acqua farai di bianco negro lambiccare che è esattamente il termine dell'alchimia allora perché cito questa cosa che cosa ha a che fare con le donne le donne fanno giochi di mano nel senso che se pensiamo a ciò che dice Baldassar Castiglione nel terzo libro del libro del corteggiano 1528 uno dei primi testi in cui si attribuisce alle donne una nuova funzione un nuovo ruolo Baldassar Castiglione ci dice le donne devono essere non semplicemente delle donne ma delle super donne delle wonder woman perché devono mettere insieme le caratteristiche proprie degli uomini e aggiungerci quelle proprie delle donne essere madri essere mogli eccetera ma non solo dice devono fare tutte queste cose donna multitasking come diremmo oggi ma aggiunge un elemento ci dice le donne devono essere in grado di intertenere si dà una funzione che non è più quella di fare la madre fare la moglie cucinare ed educare i figli ma una funzione sociale pubblica è chiaro si sta parlando della corte non si sta parlando delle sarte o di chi non so chi si parla di una funzione ma all'interno della corte e come si fa ad intrattenere attraverso la conversazione ma anche attraverso giochi come questi ecco allora che il libro di segreti nella sua versione anche ironico parodica se vogliamo o appunto più bassa rispetto ai consigli medici può diventare ancora una volta uno strumento anche per parlare di donne da questa prospettiva ecco appunto questa è solo una suggestione prodotta dalla lettura del libro di Meredith Ray che nel terzo capitolo si concentra ancora di più sulla dimensione delle donne perché analizza la presenza di elementi di scienza alchimia all'interno della cosiddetta querelle de fama cioè di quei testi in cui si mette in discussione la posizione la natura il ruolo delle donne e la loro presunta o reale inferiorità parità superiorità rispetto agli uomini e per la tradizione italiana l'anno fondamentale è il 1600 perché nell'anno 1600 escono due testi che affrontano questo tema il merito delle donne di Moderata Fonte e la nobiltà ed eccellenza delle donne coi difetti e mancamenti degli uomini di Lucrezia Marinelli due donne che vivono a Venezia più o meno contemporaneamente Moderata Fonte muore poco prima di Lucrezia Marinelli ma entrambi i testi escono a Venezia nel 1600 perché escono questi testi probabilmente Meredith Ray appunto sottolinea la pubblicazione nel 1599 di un trattatello dei donneschi difetti di Giuseppe Passi quindi un testo fortemente misogeno certamente testo alle spalle dell'opera di Lucrezia Marinelli sarei più cauto nel dire che anche alle spalle dell'opera di Moderata Fonte ma insomma è comunque testimonianza di un dibattito in corso circa la natura delle donne e in questi testi le donne parlano anche di scienza Meredith Ray non si sofferma soltanto su questi testi ma chiama in causa anche altre opere di Moderata Fonte e Lucrezia Marinelli in particolare i loro poemi cavallereschi abbiamo già sentito che Margherita Sarrocchi anche lei è autrice di un poema cavalleresco anche questa insistenza sul fatto che le donne che parlano sperimentano riflettono sulla scienza e sul ruolo delle donne siano anche autrici di poemi cavallereschi quando di poemi cavallereschi da parte scritti da donne non ce n'erano stati se non quello di Tuglia d'Aragona qualche decennio prima anche questo è fondamentale e da sottolineare e che cosa troviamo nelle opere di Marinelli e Fonte beh nel dialogo di Moderata Fonte appunto un dialogo il merito delle donne troviamo varie donne di varie estrazioni sociali di varia età di differente età e condizione sociale che dialogano tra di loro per parlare di sé e per anche criticare gli uomini in particolare viene sottolineato un elemento l'elemento della educazione della parità di educazione come strumento per appunto raggiungere una parità sociale questo accesso all'educazione si viene anche rappresentato attraverso l'educazione di queste donne che riescono appunto a trattare argomenti diversi e soprattutto riescono a condividere questi argomenti l'elemento nuovo e particolare che Meredith sottolinea nel suo libro è proprio l'importanza della condivisione prima si parlava di sorellanza no? sì questa idea delle donne che fanno gruppo e si raccontano tra di loro i segreti si rivelano fra di loro a differenza degli uomini che sono ci dice appunto moderata fonte esperti di alchimia che si tengono tutti i segreti per sé perché vogliono arricchirsi trasformando i metalli in oro senza rivelare i segreti agli altri allora l'egoismo degli uomini tutti concentrati su di sé si contrappone questa idea della socialità delle donne della condivisione che richiama in causa un elemento fondamentale cioè noi parliamo dei libri di segreti ma se sono segreti perché vanno rivelati rimangano segreti eppure nelle introduzioni ai libri di segreti si dice che la rivelazione la scrittura la pubblicazione nasce da un'esigenza quella di salvare le vite perché i segreti specialmente quelli curativi permettono di salvare vite allora Isabella Cortese ad esempio dice io li pubblico perché so che questi potranno aiutare a salvare altre vite le donne che parlano tra di loro dimostrano la loro superiorità rispetto agli uomini perché invece di tenersi gelosamente per sé egoisticamente per sé ciò che potrebbe aiutare la comunità la condividono condividono tra loro questi segreti e così si dimostrano non solo alla pari degli uomini perché hanno le stesse conoscenze ma superiori agli uomini perché riescono a migliorare attraverso la loro educazione e la condivisione di tale educazione la società non più il ruolo educativo della donna all'interno delle mura domestiche che deve insegnare al figlio a ripetere il padre nostro l'avemaria e a diventare un buon cristiano ma la donna che acquista una nuova funzione sociale come pietra su cui si fonda una società in grado di condividere la cultura e in grado di sostenersi a vicenda di salvarsi a vicenda contrapposta appunto a ciò che fanno gli uomini e in proposito vorrei leggere un brevissimo passo di questo capitolo in cui Meredith dice in breve parlando appunto del dialogo di moderata fonte è più facile dipanare e comprendere i segreti della natura delle virtù nascoste di varie erbe pietre poteri curativi e cosmetici dei cibi quindi è più facile dipanare e comprendere i segreti della natura piuttosto che il modo in cui l'uomo sebbene inferiore alla donna riesca a sottometterla ecco è questo appunto il tema centrale dell'intero dialogo mi sembra che questa frase abbia dia un po' un senso di ciò che Meredith riconosce e riesce a illustrare del dialogo di moderata fonte accanto al quale come dicevo legge anche il poema cavalleresco di moderata fonte il floridoro i tredici canti del floridoro 1581 poema nel quale troviamo una donna una maga circetta figlia di Circe e Ulisse questo unione mai realizzata in realtà che però mette insieme l'uomo dotato di intelligenza colui che sa sogliere i misteri colui che sa inventare il cavallo di Troia ad esempio e Circe con lei che trasforma gli amanti in animali scienza o abilità se vogliamo e magia che si fondono in una figura che non è la maga che seduce e inganna ma è una maga positiva appunto portatrice di questa esperienza pratica che unisce l'universo della magia con l'universo di una conoscenza pratica quella appunto tipicamente femminile a cui accennavamo a cui accennavamo prima che si fondono in questa figura del tutto positiva che dunque si fa portatrice di una grande di una grande capacità e che la figura di Circetta che affianca la figura di un'altra donna risamonda che invece è una donna guerriera quindi l'eccellenza delle donne è un'eccellenza nelle armi è un'eccellenza delle scienze e qui ritornano alla mente le parole di Ludovico Ariosto che in uno dei proemi del Furioso diceva le donne sono venute in eccellenza di ciascun arte o vanno posto cura e se noi oggi non lo sappiamo non è perché le donne non siano state abili o pratiche ma è soltanto per il non saper o l'invidia degli scrittori ci dice Ariosto ecco moderata fonte fa un passo avanti qui non è più questione degli uomini che devono cantare le donne ma sono le donne che si devono cantare da soli lo diceva anche Ariosto citando il modello di Vittoria Colonna ma qui il passo è ulteriore le donne scrivono parlano sono abili in armi e in scienza ciò di cui hanno bisogno è la parità di educazione per raggiungere lo stesso livello il punto di arrivo è appunto l'opera di Lucrezia Marinelli della nobiltà ed eccellenza delle donne che sottolinea anche appunto i difetti e mancamenti degli uomini fin dal titolo è chiara la doppia prospettiva messa in atto anche qui riflessione sul rapporto tra lettere e scienze e un catalogo di esempio quello che Lucrezia Marinelli fa spesso nel suo testo è tirare giù lunghe liste di nomi di esempi di donne illustri del passato del mito o anche del presente e queste donne incarnano che cosa? spesso incarnano la capacità di conciliare un approccio nuovo rispetto alle lettere e alle scienze ma con un approccio tradizionale insomma la scienza la letteratura che Lucrezia Marinelli sottolinea non è quella appunto che porta all'eresia o che porta al tribunale dell'inquisizione ma è piuttosto una scienza che avvicina di più a Dio quindi una capacità di conciliare livelli diversi tradizione e innovazione e come dicevo anche Lucrezia Marinelli è autrice di un poema cavalleresco l'Enrico ovvero Bisanzio Acquistato 1635 se moderata fonte è più vicina ad Ariosto Lucrezia Marinelli propende più verso il partito Tassiano e anche qui troviamo una figura di maga Erina e anche lei capace di unire la magia con la scienza naturale ecco in questa rappresentazione vediamo come la riflessione sulla creale de fama la riflessione appunto sulla natura e il ruolo che le donne devono avere all'interno della società tanto da un punto di vista di come possiamo dire di partecipazione militante attraverso i trattati e i dialoghi sia da un punto di vista propriamente letterario tramite la poesia cavalleresca acquista appunto una nuova espressione da voce alle necessità che vengono avvertite profondamente come necessità di trasformazione della figura femminile nel XVII secolo e direi che qui mi fermo grazie grazie anche a entrambi per la estrema puntualità che ci consente di fare le domande alla nostra autrice e permettetevi prima però di fare un piccolo commento anche perché abbiamo parlato prima di cultura scientifica in realtà io l'ho ritrovata tantissimo anche in questo intervento di Francesco perché parlare di educazione femminile ma soprattutto parlare di pubblicazione scientifica cioè il fatto di avere in questo contesto come diceva prima diceva prima Federica di sovrrellanza e di scambio tra donne anche l'opportunità di pubblicare i saperi per renderli comuni ai fini di una pubblica utilità mi sembra estremamente estremamente affascinante è anche affascinante il fatto che ci sia anche un po' quasi non so ci ho visto anche la comunicazione sulla salute anche in un senso di mass media queste serie sui medici che fanno cultura medica anche come cultura popolare mi è parso che ci fosse una grandissima fertilità in questo va bene io direi però adesso dobbiamo colloquiare con l'autrice perché Federica prima aveva espresso due questioni la prima che mi sono appuntata è la lettera sull'arco baleno e l'altra una domanda molto più complicata che pregherei Federica di riproporre e poi però chiederei anche a Francesco di fare la sua domanda in modo che così poi possiamo ascoltare era molto interessato a chiedere a Merete di ragionare un po' su come Moderata Fonte e Lucrezia Marinelli arrivino a scrivere questi testi qual è appunto la formazione la cultura che c'è alle spalle di queste donne che le portano permettono loro appunto di arrivare a scrivere testi del genere Federica vuoi ripropormi per la nostra platea ovviamente non per la nostra autrice che avrà senz'altro convinto sì no solamente le volevo chiedere la curiosità era se secondo lei esiste una differenza tra queste donne di cui le ha tratteggiato i ritratti e quelle che emergono dagli studi sulle altre nazioni Germania Francia eccetera se c'è uno specifico italiano da questo punto di vista allora innanzitutto voglio ringraziarvi tutti per questo intervento così così ricco e dettagliato che mi aiuta un po' a vedere cose nuove anch'io nel libro e mi fa pensare ad altre cose altre domande perché cioè sentire i vostri commenti che vengono dai vostri prospettive è veramente molto molto utile molto bello per me quindi vi ringrazio e volevo prima di arrivare alle domande dire solo un paio di cose più generale cioè quando Livia ha iniziato il nostro discorso ha menzionato che ancora oggi c'è questo non c'è parità di donne nel campo delle scienze e avevo questo in mente quando ho scritto questo libro perché mi chiedevo cioè non è sappiamo che le donne erano dappertutto sappiamo che le donne sapevano le cose facevano le cose cioè non è possibile che le donne non avevano un ruolo in questi sviluppi così importanti nel campo anche della scienza ma e quindi forse un po' il discorso era di ripensare un po' andiamo a cercare questa partecipazione e per questo libro ho pensato di farlo guardando anche al discorso letterario come diceva Francesco anche perché nel rinascimento come voi sapete la filosofia naturale era una cosa così varia e ampia senza queste distinzioni così nette che tendiamo a porre oggi tra scienza e lettere e quindi ha senso che il discorso della scienza la partecipazione nella scienza si sviluppava non solo in testi scritti o testi teorici ma anche in altri testi filosofici letterari in poesia e possiamo andare ancora oltre alla letteratura e parlare della musica per esempio e altre cose e quindi penso che questo sia anche un aspetto interessante per noi oggi quando parliamo nel senso in cui pensiamo alla scienza e questa tendenza che abbiamo di vederla come una cosa che non è collegata al mondo delle lettere mentre invece secondo me questo se cerchiamo di sottolineare questi legami rende molto più ricco il discorso comunque tornando alle domande allora la domanda di Federica grazie per il bellissimo intervento Federica e ammiro molto anche il tuo lavoro sulle donne nell'epoca un po' più avanti mi chiedeva se c'era se c'erano differenze tra l'esempio tra il quadro dell'Italia che in Inghilterra o nel resto dell'Europa direi sì in certi sensi sì perché secondo me in Italia c'è secondo me questo questo nesso tra la letteratura la tradizione letteraria e la scienza e forse più più forte e c'è un un vero senso di le donne secondo me sono molto le donne italiane sono molto consapevoli del modo in cui adottano e interagiscono con varie tradizioni letterarie della tradizione italiana come per esempio Margherita Sarocchi quando sceglie di usare l'esempio della poesia epica c'è anche il discorso delle istituzioni e delle possibilità per le donne di far entrare a far parte di questi spazi più o meno formali della scienza sempre pensando ad un personaggio come Margherita Sarocchi per esempio lei sicuramente riusciva ad approfittare dai suoi legami all'Accademia dei Lincei però non era non faceva parte dell'Ingei era coinvolta ma non membro anzi erano forse anche un po' ostili alla Sarocchi nell'Accademia mentre in Inghilterra forse se pensiamo a persone come Margaret Cavendish o persone di questo tipo lì forse c'è un rapporto un po' diverso con le istituzioni formali della scienza c'è anche il lavoro di Alicia Rankin che guarda le donne il lavoro cioè la partecipazione delle donne nobili in Germania per esempio nel nord dell'Europa che partecipavano molto nel senso di simile a Caterina Sforza con questa scienza che poteva venire praticata e fatta un po' in casa fra le donne è anche usato come modo di scambio modo di non solo di aiutarsi ma proprio di creare rapporti rapporti di influenza rapporti di potere quindi direi che probabilmente ci sono certi alimenti che sono simili in questi vari in questi vari contesti perché c'è sicuramente quell'aspetto di scienza che scienza pratica scienza che ha questi legami ai campi che possiamo considerare femminili però in verità non sono soltanto femminili ma come la cucina o la bellezza questo è sicuramente una base per donne in tutti questi contesti diversi e il modo di entrare è più facile se vogliamo dire alla scienza poi la vicinanza ad altre forme di sapere o di scienza formale dipende molto dal contesto sia in Italia che in altri parti e questo forse va un po' anche a quello che diceva Francesco quando chiedeva della formazione letteraria di Moderata Fonte e Lucrezia Marinella perché loro sono interessati perché non sono Lucrezia Marinella per esempio era figlia di un medico e anche suo fratello lavorava in farmacia si sposa con un medico e aveva una formazione a casa nel campo medico filosofico scientifico che era sicuramente più sviluppato che per molte donne e anche Moderata Fonte riceve sempre a casa si dice nella biografia che veniva scritta di lei all'epoca che riusciva a studiare dai libri del fratello ma va a vivere in casa con uno zio o un guardiano che scriveva e pubblicava nel campo della filosofia naturale quindi anche lei ha avuto un'opportunità per una formazione un po' più non formale perché non avveniva in uno spazio universitario però forse più sviluppato della formazione che molte donne avevano adesso non mi ricordo cos'era l'altra domanda l'arco baleno era sulla lettera sull'arco baleno sì sull'arco baleno qui la cosa interessante è che Camilla Arcugliani lei è un po' diversa come diceva Federica dagli altri perché c'è più teoria dietro a quello che sta facendo cioè non è lei la prima donna in Italia di scrivere un libro di lettere specificamente dedicate alla filosofia naturale vediamo che anche se lei dice insiste sul fatto che non non studia galleno non studia queste autorità ma è chiaro che ha studiato e ha letto molte cose perché poi riesce a creare un po' la sua nuova teoria della natura e presenta questa teoria appunto molto materialistica dei motivi per l'alluvione biblico e ciò che dice quando parla dell'arco baleno presenta Noè si dice Noè come come un come un filosofo e anche come un astrologo che credo sia un po' curioso questa presentazione di una figura biblica come astrologo ma anche qui lega la sua discussione dell'arcobaleno a questa idea dell'aspetto materiale della formazione del mondo e dice che non è l'arcobaleno non è una riflessione del sole che sarebbe più la tendenza aristotelica ma invece sia l'ombra che deriva dalla materialità della terra stessa non so se aiuta questo e forse c'era un'ultima domanda che era cosa era l'ultima di Francesco per me ha risposto all'educazione di Lucrezia Marinelli in moderata fonte e ha risposto già grazie grazie mi viene in mente scusa adesso sentando la tua replica il fatto che anche Paracelso si pantava di non aver letto nessuno di essere uno sì e poi c'è questo poi lei presenta questo questo quest'opera dove è chiaro che ha letto ha letto molto ma per lei vuole presentarsi come una che non solo è originale però se pensiamo poi a cosa succede quando va al processo e tutta la difesa di lei che siccome è donna e non sa niente è meno pericolosa e non si deve tenere su serio quello che dice nel suo libro devo fare anche io una domanda se è possibile così proprio da profana perché noto che queste donne e questo ambiente che ha comportato anche questo sviluppo culturale è Venezia è Padova cioè Roma non possono essere dei casi cioè non è casuale il fatto della collocazione di questo sviluppo con invece centri della stampa cioè diciamo anche dei mass media di allora cioè della stampa come elemento di comunicazione non so se assolutamente Venezia è il centro editoriale anche con forse più libertà di quello che l'ambiente più libero nel senso di cosa può venire pubblicato fino ad un certo punto in confronto a Roma per esempio e anche dove cioè nel senso di mass media cioè come si diceva dei libri di segreti per esempio cioè questo in un certo senso era un fenomeno prodotto dagli editori perché esattamente come notava Francesco cioè gli editori vedono dove è l'interesse dove è il mercato cosa vogliono leggere i lettori e poi cercano di creare un prodotto che può soddisfare a questo a questo interesse e quest'idea di creare libri scritti da donne o attribuite a donne perché c'è un interesse cioè questo rende i libri un po' più le rende una novità in un certo senso perché siamo nell'epoca che il vogare sta prendendo potere come lingua letteraria però ancora nuova quindi ci sono tantissime donne pubblicate a questo punto e quindi una novità cercano libri che possono soddisfare un po' questa domanda da parte dei lettori lo fanno anche con libri di lettere che non a caso molti libri di lettere più popolari sono scritte o attribuite a donne perché c'è questa idea che forse rivelano qualcosa di nascosto o di segreto di un mondo che a causa delle varie norme di genere di gender dovrebbe essere un po' più privato grazie grazie moltissimo io vorrei chiederei a Marina Caffiero se vuole così come abbiamo iniziato fare una parola di un po' così è molto interessante se va avanti la discussione è ancora meglio io volevo commentare questa tematica delle scritture femminili relative alla scienza che ci apre un mondo sia su quello che le donne scrivono sia su quello che le donne leggono il che non è una cosa da poco perché noi siamo stati sempre abituati a pensare appunto che per esempio la lettura fosse limitata a poche e la scrittura ancora a meno ora il fatto che Meredith lavori su queste pubblicazioni che bisogna anche cercare ovviamente però sono pubblicazioni sono stampe mi fa venire in mente il lavoro che da circa vent'anni stiamo facendo qui in Italia sulle scritture femminili per far emergere le scritture femminili in quella collana che io dirigo che si chiama la memoria restituita pubblicato 16 volumi di scritture femminili ma quali scritture femminili? lì c'è stata una scelta metodologica di cui mi piacerebbe parlare con Meredith che è quella non di riprendere pubblicare testi pubblicati perché quelli vai in biblioteca bene o male li cerchi e li trovi ma di pubblicare i testi inediti allora non solo i segreti i testi inediti quello che le donne hanno scritto e non hanno mai pubblicato perché pubblicare è una forma di uscire fuori pubblico appunto che non era vista granché bene ma le donne scrivevano e scrivevano anche tantissimo allora lì dalle biblioteche bisognerebbe passare agli archivi e la ricerca che noi abbiamo fatto da vari anni con tutta un'equip di persone di pubblicazioni hanno portato fuori una quantità di scritture femminile inedite su tutti i campi letteratura scienza anche storia dell'arte eccetera che era assolutamente impensabile e quindi comincia a cambiare le domande storiche cioè quante donne sapevano scrivere e scrivevano poi il fatto che non pubblicassero un altro discorso poi quante donne erano autotidatte per esempio uno degli testi che io amo di più di questa nostra collana che è di 16 volumi è quello della Marchesa Bocca Paduli che è un caso settecentesco quindi più tardi più tardo ma la Bocca Paduli era una scienziata che si era formata da sola praticamente praticando conversando nei salotti che lei stessa organizzava con i più grandi scienziati dell'epoca e a un certo punto era diventata aveva un magnifico cabinet scientifico con moltissime cose esposte eccetera e lei scrive un diario che è bellissimo che nessuno conosceva in cui racconta anche questa sua esperienza e come vada in giro per l'Italia nel suo viaggio all'Italia non a cercare i monumenti d'arte ma a cercare le fabbriche i porti là dove le cose si producevano per cercare di capire come si producevano questo accompagnato dal fatto che forse in Italia c'è un altro fenomeno che andrebbe preso in considerazione che è quello delle accademie porta a una situazione forse per questo diciamo giustamente messa in luce nella sua importanza da Meredith perché non c'è solo l'accademia dei licei ci sono tante tante altre accademie che sono poi cittadine soprattutto a Venezia soprattutto a Roma eccetera in cui poi queste donne riuscivano pure ad entrare all'Arcadia per esempio anche questa un po' tarda ma già prima dell'Arcadia le donne potevano entrare nelle accademie e quindi il discorso scientifico poteva circolare anche fra loro allora appunto vorrei chiedere all'autrice se questo discorso dell'archivio della ricerca non facile per nulla facile però poi di grande soddisfazione di questi scritti femminili inediti negli archivi è stata tentata per quanto riguarda l'apporto delle donne alla cultura scientifica perché io credo che potrebbe apportare anche qualche sorpresa insomma anche qualche cambiamento al di là delle pubblicazioni che sono formali e quindi sottostanno sempre a un codice esterno comunque complimenti perché è una ricerca veramente importante bella e utile per noi italiani grazie e sì senz'altro vorrei saperne di più di questa colana che dirige perché secondo me questo è un lavoro così importante cioè non solo i studi che facciamo ma proprio cioè dobbiamo avere le fonti dobbiamo avere il materiale da studiare e quindi rendere accessibile questi testi è molto importante e all'inizio del nostro discorso credo che Federica ha menzionato cioè questo il fatto che gli archivi e le biblioteche sono piene di materiale e solo che se non andiamo a cercarlo cioè cercarlo e non sappiamo che esiste allora rimane lì nascosto però assolutamente importante fare questo lavoro archivistico o con i manoscritti testi orari perché appunto la cultura manoscritta è molto importante per le donne perché sì cioè non sempre spesso avevano motivi per non pubblicare cioè pubblicare un libro apre cioè può genere molti tipi può essere difficile prima di tutto cioè avere l'accesso alla stampa ma può generare anche ostilità in un certo senso come succedete a Margherita Sarocchi per esempio c'era molta ostilità contro di lei quando ha pubblicato una poesia epica cioè un famoso passo di Marino per esempio quando lui la condanna praticamente e quindi sicuramente c'è molto materiale che è in manoscritto per vari motivi e non soltanto questo ma bisogna secondo me anche pensare o considerare l'aspetto orale di questa discussione perché non tutti i discorsi scientifici venivano affidati alla pagina cioè spesso si spolgevano in ambiente orale come discussione e ci sono molti casi in cui poi dopo qualcuno viene e scrive un ricordo delle discussione come sempre con Margherita Sarocchi c'è una descrizione di una conversazione che lei ha avuto un dibattito orale che lei ha avuto con Galileo per esempio ma ci sono tantissimi di questi esempi quindi secondo me sì questo è assolutamente essenziale che facciamo questo lavoro in archivio in biblioteca e poi cerchiamo di renderlo accessibile così che possiamo studiarlo grazie volevo sapere visto che abbiamo questi cinque minuti di rispondi dieci minuti volevo sapere se dalla platea volevamo fare una domanda e c'è questa opportunità di fare una domanda alla nostra autrice o ai relatori qui presenti allora chiedi allora ripeto io la domanda se l'autrice non ha sentito la signora qui chiedeva quante di queste donne hanno subito processi sono andate incontro a dei processi perché appunto sono state perseguitate anche per questa loro attività che forse stavamo dicendo forse dai dai dagli archivi dei processi forse un po' di storia orale forse si potrebbe anche recuperare sì questo è vero cioè di quelle delle donne che ho presentato nel libro solo Camilla Erculiani viene processato e non sappiamo neanche la fine di quel processo cioè ancora non si sono trovati i documenti del processo ma invece si ha la descrizione che è stata scritta dal suo avvocato Minocchio quindi lì ci sarebbe più da scoprire senz'altro queste altre donne no però ci sono donne in questi circoli per esempio Francesco ha menzionato prima un libro di lettere scritto da Ortenzio Lando e attribuito a varie donne e ha menzionato anche Luigi Grotto che faceva parte dello stesso circolo Lucrezia Gonzaga da Gazzuolo scrive era una donna di quell'epoca che faceva parte di quel circolo lei ha pubblicato un suo libro di lettere e lei è stata processata per per eresia e quindi succedeva assolutamente però anche lì il lavoro di archivio sarebbe importante per saperne di più se posso aggiungo solo un dettaglio nella relazione tra cultura lettura apprendimento da parte delle donne educazione e poi processi tra le cose che venivano contestate negli atti di processi delle donne c'era anche ciò che leggevano ad esempio in certi atti di processo si criticano la condannata perché aveva una copia dell'Orlando Furioso ad esempio il fatto di leggere questo tipo di letteratura era un ulteriore elemento di condanna sì possiamo anche fare una domanda una riflessione meglio relativa al fatto di cui noi qui in questa nostra fondazione ci siamo molto occupati del rapporto con la magia e con le accuse di stregoneria perché molte di questi segreti o di questi libri con le loro ricette e comunque con le pratiche che facevano le donne all'interno dell'uso delle spezie delle droghe di tutto il materiale che poteva venire anche importato da lontano era molto sospetto alle autorità quindi noi siamo qui in un crinale un confine molto fluido e scivoloso in cui questa attività sia pure in alcuni casi come quelli del libro apprezzata anche lodata però corre il rischio soprattutto per quanto riguarda l'alchimia proprio quindi figlie dell'alchimia ma l'alchimia vista diciamo nel suo aspetto così pratico di influenza sulla natura che poteva essere molto mal visto quindi ecco volevo sapere dall'autrice se ha fatto una riflessione su questo confine su questa possibilità tra l'altro evidente perché le pratiche delle donne non erano soltanto le ricette o la cosmesi ma l'acqua per esempio di cui si è parlato di quell'esperimento è uno dei vettori di esperimenti di magia fra i più importanti l'acqua è gestita anche appunto per usi domestici dalle donne così come per esempio le donne andavano in farmacia e compravano l'antimonio per avvelenare i marichi e questo abbiamo molti processi su questo questo mi sembra ha a che fare con la pratica scientifica con la cultura scientifica evidentemente si ha anche una cultura di più basso livello che permette di agire diciamo in queste situazioni come dire anche un po' criminali se vogliamo sì sì assolutamente e quando ho scritto il libro avevo preso una decisione deliberata che volevo concentrarmi su un certo aspetto di scienza pratica e quotidiana e non e non sulla magia però è vero che c'è questo non possono essere completamente separati perché da sempre esiste questa idea della donna che pratica la medicina erbale erboristica si può dire che è una specie di strega perché è un tipo di sapere che non è il sapere accettato formale o istituzionale ma invece qualcosa che può essere visto come pericoloso trasgressivo quindi assolutamente ci sono esempi di donne che si trovano a questo in questo conflitto dove la scienza si incontra con la magia assolutamente e farò solo un commento di una cosa interessante che è venuto fuori anni dopo di aver pubblicato il libro ma anche nel caso di Caterina Sforza per esempio che ha tenuto questo manoscritto molto ricco molto lungo che era fatto solo per se stesso di ricette di vari tipi è venuto fuori che esiste un altro volume di quel di quel manoscritto che si trova il primo quello che avevo studiato io in un collezione privata un archivio privato ma alla Biblioteca Nazionale di Firenze c'è un altro manoscritto e lì si vede che è stato censurato tutte le ricette che avevano a che fare con la magia sono state censurate non si sa esattamente quando o da quale mano quindi sì penso che quel rapporto con la magia è sempre lì anche quando è nello sfondo grazie grazie moltissimo a Merit Reim grazie alla fondazione Ernest Abesso io penso che siamo perfettamente in orario 7.29 e quindi ringrazio tutti voi che siete rimasti fino ad ora e io personalmente grazie a Marina di avermi coinvolta perché è stato veramente di arricchimento grazie mille grazie a voi grazie a tutti